Ancora più difficile è ringraziarlo per il secondo regalo che ci ha fatto, l'amicizia, l'amitezza, la dolcezza. Ci ha insegnato di come sia bello stare insieme per stare insieme, per condividere i momenti della quotidianità e semplicità. Questo è il regalo più grande che Oscar ci ha fatto. L'ultimo regalo è quello che a me personalmente rende meno triste il momento in cui penso di andare nell'aldilà, perché so che ci sarà Oscar con le sue manone.